E' una notte buia e tempestosa ed Absoluta si stava recando al lavoro. All'improvviso venne colpita da un potente fulvio. Quando Absoluta si risvegliò, avvertì la strana sensazione di possedere un potere illimitato e scoprì che ora aveva in sé la forza e la potenza del Power G. Scopri Absoluta Plus con la tecnologia Power G, ibrida o senza fili. Offre una grande flessibilità di installazione. Garantisce un livello di sicurezza ancora più elevato. E tutto questo ha dei costi di manutenzione inferiori. Ma non è tutto. Supporta una grande varietà di dispositivi di rilevazione, anche a notevole distanza. E' dotata di un potente software di programmazione. Permette la comunicazione vocale e consente la gestione completa del sistema con un'avanzata app. Offre ancora di più ai tuoi clienti di sistemi residenziali e commerciali. Con la nuova forza di Absoluta Plus. Assoluta Plus. Grazie a tutti.